ciao a tutti da Luca Viscardi facciamo una breve registrazione video effettuata con l'Alcatel Idol 2 mini che stiamo testando in questo periodo per farvi vedere qual è effettivamente la qualità di registrazione è una risoluzione HD quindi 1280 x 720 pixel ci troviamo ora in una situazione di luce durante il giorno situazione leggermente anche di penombra vediamo ora come si comporta girando verso il controluce quindi il tempo di rimessa a fuoco direi comunque che visto sullo schermo dello smartphone stesso la qualità di visione è buona facciamo il giro completamente proseguiamo più avanti intanto che potete valutare anche eventuali scattosità durante il movimento o comunque la stabilizzazione visto che sicuramente la qualità camminando va ad essere un po disturbata dal movimento mi raccomando andate a vedere gli altri video che pubblicheremo contestualmente sempre relativi a questo prodotto per poter visionare effettivamente le prove che abbiamo fatto e le nostre opinioni su sullo smartphone che effettivamente si si va ad inserire in una fascia di mercato sicuramente molto interessante in quanto si trova ad elà del prezzo di listino che comunque poi è sempre un po relativo al momento si trova attorno ai 160 170 euro ricordo che è un dual sim quindi doppia sim sempre entrambe attive ha tra l'altro la particolarità di avere uno slot a doppia profondità quindi un unico slot di larghezza e le due sim entrano in serie una dietro l'altra nel nello smartphone quindi una una caratteristica rispetto ad altri che invece non avendo la cover posteriore rimovibile hanno un doppio slot esternamente schermo da quattro pollici e mezzo una buona risoluzione una buona visibilità e anche la luminosità secondo me è veramente buona per tutto per un punto un prezzo estremamente contenuto non perdetevi quindi gli altri video direi che questo test è sufficiente per farvi comprendere le qualità di registrazione a presto da Luca Viscardi